Allora, buonasera a tutti, io sono Angelo Marotta di Occhianotte.it, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Occhianotte, stasera come avete già visto nell'anteprima della copertina e della presentazione della puntata, stasera con noi abbiamo il dottor Marco Corigliano, buonasera Marco, grazie. Buonasera Angelo, grazie, grazie a te per essere qui, buonasera a tutti. Allora, stasera avremo una rosa di argomenti, vedremo un po' quello che riusciremo a fare, io penso che non durerà tanto la trasmissione, Marco ha detto un'ora, non un quarto, riusciremo a fare tutto, se poi allunghiamo, tanto meglio. Tanto meglio, sono d'accordo. Innanzitutto parleremo delle, poi io dovrò fare una domanda a quella della gestione dello stress, te la farò dopo, innanzitutto parleremo delle prostitute uccise durante l'azione omicidiale del mostro di Firenze dal 68 all'85, a Firenze come sapete sono state uccise le prostitute e non solo. E poi parleremo del delitto di Lucca, che per molti è attribuito al mostro di Firenze e per ultimo, ma non per ultimo, il delitto della Cavallina ai danni di Renzo Consigli e Antonietta Persiani, che sono due persone, una coppia uccisa in macchina con un altro tipo di pistola, ma Pierluigi Vigni ai tempi pensò, forse anche a ragione, che poteva trattarsi del mostro di Firenze con un'altra pistola. Poi ne parleremo con Marco stasera, so che ha letto qualcosa, non l'ha approfondito, non l'ha approfondito perché il materiale anche, ce n'è anche poco. Mi confermi questa cosa? Sì Angelo, esatto, confermo. Come hai anticipato tu stasera parleremo di alcuni dei cosiddetti delitti collaterali relativi all'omicida delle coppie. Infatti purtroppo, come hai detto tu, la documentazione è estremamente frammentaria, abbiamo poche notizie, comunque cercheremo di fare un'analisi sulla base di quello che abbiamo. Purtroppo non ho avuto accesso, a differenza dei delitti del mostro, dove comunque abbiamo, seppur anche lì frammentaria della documentazione insomma reale, qui diciamo ci dobbiamo attenere un po' a delle informazioni molto basilari, però insomma vediamo un attimino di fare qualche considerazione. Io, per me, questo tu lo sapevi, l'ho detto anche prima, che Minia quando venne a sapere e si recò sull'uomo dell'omicidio, scusa, pensò subito al mostro di Firenze, poi cambiò idea. Tu parli di Barberino del Mugello o di Luca? Io parlo di Renzo Consiglia e Persiane, di Barberino del Mugello e nella fattispecie la Cavallina. La Cavallina, perfetto. Allora, sì. Allora, guarda, io prima di entrare su questi argomenti, voglio rispondere a un paio di domande che mi sono state fatte che meritavano se no meno approfondimento, tanto cercherò di essere sintetico, anche se sono due argomenti che effettivamente meriterebbero un approfondimento, però per stasera insomma abbiamo altre cose, quindi cercherò di dare delle risposte abbastanza sintetiche. Allora, dunque c'è una signora che mi aveva chiesto se potevo portare in relazione alle puntate precedenti più esempi relativi a serial killer europei piuttosto che statunitensi. Dunque, l'altra volta io parlando di serial killer con tendenze necrofilo-feticisti, avevo citato per esempio Edmund Kemper, serial killer appunto americano che staccava le teste delle vittime e lo utilizzava come strumento sessuale, ma ecco, la stessa identica cosa faceva anche Fritz Honka, che era un serial killer tedesco, quindi questo l'avevo citato, però ci sono anche altri esempi. Adesso brevemente ne citerò qualcuno per rispondere un po' a questa domanda. In Francia per esempio c'è Guy Georges che squarta la vittima e porta via oggetti insomma a loro appartenuti, alle vittime. Questo è un classico esempio di feticismo. Poi sempre in Germania, oltre a Fritz Honka abbiamo Joaquin Kroll, anche lui serial killer mutilatore, solo che lui mutilava scopi cannibalistici. Però ecco, anche lui mutilava appunto glutei e cosce come altri che facevano appunto queste mutilazioni a questo scopo. In Spagna, per esempio, come serial killer necrofilo-feticista abbiamo Francisco Escalero, che a un certo punto della sua vita, questo qui già aveva un quadro psichiatrico estremamente grave, questo quadro peggiora quando lui comincia a sentire delle voci. Queste voci gli dicono di uccidere. Quindi in alcuni casi squarta le vittime, in altri addirittura ottiene un vero e proprio soddisfacimento sessuale in presenza dei cadaveri e in altri addirittura mutila i genitali, ecco. Ma un po' come feceva BTK? Ma guarda, allora, non si hanno molti dati. BTK era appunto bind, torture and kill, sì, no, no, certo. Voglio fare l'inglese no, no, va bene, va bene, no, è giusto, è giusto, hai fatto benissimo. Lui aveva questa BTK, se ricordo bene, dalle foto insomma aveva questa BTK del bondage. No, questo qui era proprio un, ripeto, aveva la tendenza appunto a proprio il termine squartare, cioè svuotare gli organi insomma interni alla vittima e appunto sembra da quello che ci viene riportato che avesse proprio riuscisse a raggiungere un soddisfacimento sessuale proprio una volta che la vittima era morta e poi in alcuni casi, in uno o due casi, adesso lo ricordo bene, mutila addirittura, cioè taglia proprio i genitali, ecco. Questi sono alcuni esempi europei, sul punto serial killer, mutilatori o necrofili o feticisti, cioè quello che volevo dire insomma, il discorso è questo, cioè certe devianze come sono presenti negli Stati Uniti, sono presenti anche in Europa, cioè non hanno confini geografici, non sono caratteristica degli Stati Uniti. Certo, effettivamente alcuni alcuni contesti socioculturali sì e purtroppo sono terreno fertile, sono terreno più fertile purtroppo per lo sviluppo di certe devianze, sembrerebbe, almeno così sembrerebbe da alcuni studi. Però ecco, come abbiamo visto, ce ne sono anche in Europa ma non solo, io farò anche qualche esempio italiano, visto che questa signora mi ha chiesto di citare alcuni esempi italiani, ne abbiamo purtroppo qui da noi, fin dalla prima metà dell'Ottocento, Giorgio Ossolano, questo Ossolano uccide bambine e poi le fa pezzi e vengono, pensa, trovati nel suo giardino, sepolti alcuni oggetti appartenenti alle giovani vittime, quindi questo è un altro esempio chiaro di feticismo, esempio importante secondo me che la Dante qui da noi è Vincenzo Perzeni, il quale provava una soddisfazione sessuale nello strangolare le vittime, questo qui faceva questa cosa e poi le mutilava. È interessante una intervista che lui, tra virgolette intervista che lui lascia all'ombroso, criminologo che lo interroga e lui pensa, racconta all'ombroso che godeva nell'annusare le vesti delle vittime femminili, penso, a toccare le viscere estratte dai corpi e che sostanzialmente, insomma, soddisfacimento era proprio tipo necrofilo. Poi c'è anche un altro soggetto, certo Serviatti, per esempio, anche lui fu stile al killer necrofilo, anche questo, ecco, strangolava le vittime, aveva tendenze… questi soggetti per fortuna tutti quanti con un numero relativamente basso di omicidi rispetto a quelli commessi dal mostro. Però, ecco, ovviamente va a sottolineare perché sono stati presi in tempo, sono stati catturati, ovviamente avrebbero continuato. Poi c'era un'altra domanda che mi avevano fatto se… ah, ecco, in base alla… se è possibile che il mostro di Firenze potesse essere stato influenzato dal cinema, da film e quant'altro. Allora, io questo argomento già l'avevo un po' sviluppato qualche tempo fa e non ne avevo parlato in maniera approfondita, in realtà non lo farò neanche stasera, rispondo, diciamo, brevemente alla domanda dicendo questo. Allora, io diverso tempo fa avevo, tra l'altro, aiutato dal mio amico Giuseppe Di Bernardo che prima di me aveva fatto questa ricerca, aveva fatto proprio uno studio specifico sul film e sul cinema, quindi mi sono fatto un po' aiutare da lui e poi ho approfondito anche su altro, quindi non solo sul cinema, ho cercato di vedere se libri o riviste potessero avere influenzato il comportamento di questo omicida e sono uscite anche fuori delle cose effettivamente anche abbastanza interessanti, ecco, ripeto, non starò adesso a parlare di questo perché il discorso è lungo. Tuttavia, comunque, come vi avevo spiegato anche nelle puntate precedenti, io ritengo che questi siano dei stimoli secondari, cioè cosa vuol dire secondari? Mi spiego meglio. Allora, io non escludo la possibilità che qualcuno di questi elementi, quindi che ne so, un film, una rivista, un libro, possa aver incentivato un qualcosa che però era già presente nel soggetto. Certo, quindi gli ha dato una spinta, secondo te? Sì, esatto, Angelo, questi sono rinforzati. Allora, mi spiego meglio, per fare un esempio, se l'ipotesi all'omicidia delle coppiette ha visto, assistito a un film su Jack lo squartatore, certe tendenze a perpetrare mutilazioni erano già evidentemente presenti in lui, questo ha fatto unicamente da rinforzo. Cioè, faccio, guarda, c'è un'intervista, io già nelle puntate precedenti avevo citato questo serial killer, Richard Ramirez, allora c'è un'intervista che fa un giornalista italiano, Ramirez, e lui, un'intervista all'altro molto interessante, tra le varie cose lui racconta di una sera in cui lui praticamente, dopo aver assistito alla proiezione di Arancia Meccanica, compie un duplice omicidio. Lui disse di aver assistito tre volte, penso, lui rimase nel cinema e vide per tre volte dei fili al film, e lui commenta dicendo che quando è uscito dalla sala era praticamente come se fosse carico. Chiaramente il contenuto violento del film in soggetti del genere ha un effetto ovviamente di stimolo, chiaramente questo, ma Ramirez l'aveva già ucciso e avrebbe ucciso indipendentemente se avesse assistito al film o meno. Chiaramente questo gli ha fatto da rinforzo, cioè quello che fa Ramirez sulle scene del crimine lo fa perché lo gratifica, non perché lo ha visto fare in un film, è questo che voglio, cerco di dire insomma. Certo poi è chiaro che se vede un film dove vengono rappresentate delle violenze che lui già incline a perpetrare, ovviamente come dicevo quella è un incentivo, però io credo va alla vista, la mia opinione è che va alla vista in questo quadro qui. Questi qui vanno avanti per conto loro, Angelo, nel senso che non è che hanno bisogno secondo me di… c'è per esempio un serial killer tedesco, Peter Curtin, pensa questo qua, che cosa… cioè lui racconta durante l'interrogatorio che a un certo punto un giorno vede un tramonto rosso sangue e praticamente lo interpreta come un segno del destino che il suo scopo nella vita è quello di uccidere, capisci? Questo direi che insomma è indicativo di come questi soggetti… di quello che è il comportamento di questi soggetti. Non so se ti ricordi il figlio di Sam, lui quando gli chiesono perché uccidi, perché hai ucciso… David Bercovitz, certo, perché me lo diceva il cane della vicina. Ecco, capito, cioè quindi nel senso non posso… no, no, ma è vera sta cosa, esatto, tu hai fatto un esempio, vedi tu hai sintetizzato come purtroppo la mente di questi individui, per la mente di questi individui, qualsiasi stimolo è… come si dice, tutte le strade portano a Roma, tra virgolette, cioè nel senso… alla fine, vedi ecco, lui aveva il cane della vicina, quest'altro vede il tramonto, un altro magari vede un film, ma ripeto, questa non è la… chiaramente… questi sono tutti stimoli secondari, che secondo me se non fosse stato quello sarebbe stato qualcos'altro. Cioè, ripeto, c'è un serial killer ingrese, questo è un altro esempio europeo, questo uccide dal 1912 al 1914, questo conservava i cadaveri in dei bidoni sotto spirito, questo sicuramente non aveva visto nessun film, stesso discorso, Gilles de Rais, 1400, un serial killer francese, questo tagliava la testa ai bambini, certo non l'hanno letto da qualche parte, ne ha visto film horror, insomma ecco, ripeto, non è che bisogna sminuire questo aspetto, però non lo ritengo centrale, poi che ci possa essere stata una qualche, diciamo, come ho detto prima, formato di stimolo, che poi vedi qui il problema è che non si tratta solamente di cinema, cioè qui possiamo veramente, se parliamo del mostro di Firenze, possiamo allargare il discorso veramente a tante altre cose, non solo al cinema o a una letteratura di un certo tipo, ma a tantissime cose, però ripeto, queste sono sempre, tra virgolette, secondo me, a mia opinione, sono sempre appunto aspetti secondari, ecco, questa è un po' la mia opinione personale. Certo, certo, allora io torno a dire, come dissi anche l'altra volta, che sul fatto della domanda, che te l'ho fatto, è che se lui poteva essersi ispirato al film, sai, tu lo chiami Ciurleo, lo posso dire, ma Ciurleo… Francesco, sì, come no, ci si dice, diciamo che ci conosciamo, insomma, bene anche direi. Francesco ha ipotizzato che, secondo lui, ha anche azzardato alcuni titoli di film, tra e qui venerdì 13, che potesse averlo influenzato in determinati omicidi. Ovviamente trattasi di ipotesi… Sì, no, allora, guarda… Noi non facciamo come quelli che dicono il mostro era così e faceva così. Beh, no, direi… I film, guarda, i film che guardava, i libri che leggeva, come ho detto, lo sapeva purtroppo soltanto lui, quindi non abbiamo avuto modo, secondo me, di avere riscontri da parte del soggetto specifico. Allora, la saga di venerdì 13 è molto lunga, io non la ricordo neanche bene tutta quanta, però, ma guarda, ripeto, io credo che se uno poi fa delle ricerche può trovare degli elementi che possono avere… Ma io sai, quello che ho voluto evidenziare, parlando di alcuni serial killer, per esempio, vedi la stessa Matamba, c'era una contessa, la contessa Batori, questi qui… Betoli, scusasi, l'ha pronunciato, questa qui ha fatto delle cose da far impallidire il mostro, quindi, ripeto, non ha avuto stimoli, quindi nel senso se noi possiamo anche rintracciare delle similitudini, no? Magari ci accorgiamo che un determinato delitto assomiglia a un… magari a un delitto perpetrato in un certo film, il che ci può anche stare, però può anche non starci, cioè nel senso che magari il suddetto omicida che noi repudiamo avere essersi ispirato a questa serie o a questi film, magari questi film neanche li ha visti, cioè come dicevo prima, questi qui vanno per conto loro. Ripeto, ora, se io ti dico questo qui, questo ungherese, bella chise, che nascondeva i cadaveri, li conservava nei bidoni sotto spirito, e questa non è un'idea che può aver, diciamo, estrapolato da una qualche pellicola. Questo qui era evidentemente… aveva tendenze chiaramente parafiliche di un diverso tipo, ma lo stimola interno secondo me. Poi ripeto, se c'è un riscontro esterno, è come dire, a te piacciono determinate cose, vedi quelle determinate cose proposte in una pellicola o in un libro, ovviamente, ripeto, quello è un incentivo. Però probabilmente, ripeto, quello che voglio dire, perché anche nell'antichità troviamo appunto, ripeto, RAIS 1400, troviamo appunto degli esempi che ci dimostrano come questi non abbiano avuto ispirazione cinematografica o letteraria, insomma, ecco. Quindi credo che certe tendenze siano proprio… ripeto, io adesso, ripeto, mi sono limitato a fare solo alcuni esempi, li ho trattati anche in maniera, devo dire, purtroppo mi dispiace, molto superficiale, ma andrebbe fatto un approfondimento su questi soggetti di cui io poco fa ho parlato, perché ognuno poi racconta una storia. Quindi effettivamente ho detto, Ramirez è un esempio, secondo me, di come certi serial killers trovino la carica in un certo tipo di cinematografia… Scusami se ti interrompo, Ramirez è nice talker? Esattamente, sì, nice talker. Lui stava tra l'altro… Los Angeles, sì. Lui stava a Los Angeles, al Sesli Hotel, lui abitava là, abitava là, al Sesli Hotel, dove è accaduto anche il fatto, non so se tu lo conosci, ma non credo sia di tua competenza, nel senso che non credo ti interessi, non credo che tu lo conosca. Nel caso di Elisa Lam, quella ragazza sparita all'ascensore e ritrovata poi, 19 giorni dopo, sopra la cisterna sul tetto. Conoscevi questa cosa? No, Angelo, questo è… no, questa… mi avevi parlato di questo caso, però non avevi specificato questo aspetto. Ecco, questo è successo, ovviamente dopo alcuni anni, Ramirez era già stato preso, eh? Eh, ovviamente eri innocente, no? No, no, giustamente hai fatto bene, perché il primo pensiero che può avvenire, certo, giustamente… Sì, no, no, infatti, ma infatti, quando ho visto il documentario, siccome non lo hanno detto subito, io ho fatto il collegamento, ho detto, sta a vedere che è stato Ramirez, poi in realtà Ramirez è stato peccato prima, lei è arrivata dopo, e quindi non può essere stato lui, capito? Però lì per lì ci pensi, no? Beh, ovviamente sì, perché chiaramente quello poi nel giro di pochi mesi ha ucciso tantissime persone, poi con tanti modus operandi differenti, quindi Ramirez aveva questa caratteristica, non aveva un modus operandi specifico, quindi sì, ci poteva tranquillamente stare, insomma, che… Vedi, ma ripeto, io ho fatto questo esempio di Ramirez per indicare come effettivamente ci siano queste possibilità, però ecco, vedi, se torniamo agli esempi più classici, prendi questo Jack lo squartatore, che quello lì certe cose le faceva perché erano insidi dentro di lui, non credo che abbia trovato ispirazione in… No, vabbè. Esatto, capisci? Esatto, ma no, 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 a parte non c'erano pellicole, non c'erano pellicole, ma neanche… Ripeto, questi sono, come ho spiegato nella prima parte, insomma, questi qui sono tendenze, diciamo, molto spesso parafilia che, quindi, derivano da… Parte tutto da una psicopatologia, Angelo, cioè, nel senso, chiaro che, dico una cosa anche abbastanza banale, però per farmi capire, cioè, una persona clinicamente sana, non è che ovviamente se vede un film, poi il giorno dopo ripropone, dice, vabbè, faccio quello che ha fatto l'assassino nel film, chiaramente, cioè, questo è ovvio e scontato, quindi si parte sempre da una psicopatologia in stato avanzato, quindi, anche lì, dobbiamo chiederci che cos'era, poi su che cosa fosse questa psicopatologia possiamo stare ad ampliare il discorso, possiamo fare tantissime ipotesi, capito? Però è chiaro che si parte sempre da una patologia pregressa e, diciamo, anche molto grave, ecco, in questi casi, quindi, ecco, era questo sostanzialmente il discorso. Sì, no, comunque, tornando al discorso dei film, i film non c'erano veramente nell'88, perché i primi film realizzati dai fratelli Lumiere sono del 91, 1891. Giacomo Sguardatore ha colpito nel 1888, in piena epoca vittariana. Io vorrei leggerla, cioè, Verzeni lascia questa intervista all'ombroso, io, guarda, sarebbe bello leggere, è molto lunga, non lo faccio stasera, ma, cioè, lui racconta proprio il piacere che derivava dal manipolare le interiore umane. Capisci? Quindi, in queste cose, i film hanno poco a che fare, cioè, questi sono piaceri insiti nella natura di questi soggetti, e sono, indipendentemente dalla loro provenienza, dalla loro, cioè, fossero statunitensi, inglesi, piuttosto che spagnoli o italiani, certe parafilie, come per esempio, ecco, la necrofilia, il feticismo, la pedofilia, non hanno confini, e si esprimono, ripeto, al di là dei confini geografici, ecco, troviamo molto comuni, ho detto, purtroppo, ho detto, i Stati Uniti hanno visto effettivamente il proliferare del fenomeno dell'omicidio seriale, questo effettivamente è vero, maggiormente rispetto ad altri paesi, però lo stesso tipo di tendenze... No, Marco, abbi pazienza, però dobbiamo anche... Dici, questi sono tanti, dici, è normale, ci sono 400 milioni di persone, ho capito... Eh, certo, certo. A livello geografico sono, non so, quello dico una cazzata... No, no, è vero, no, beh, guarda, adesso non voglio, qui bisognerebbe prendere l'eschi tab adesso, che è una sorta di sistema di monitoraggio dei serial killer a livello europeo per vedere questi dati, ci sono dei dati statistici, comunque credo che a livello di proporzione, ripeto, qui adesso dico una cosa di cui non sono sicuro, ma a livello statistico, ma credo che a livello di proporzione, per quella che la popolazione statunitense, loro negli anni 70-80 ne hanno avuti veramente tanti, questo sì. Quindi evidentemente può esserci anche un'influenza sul piano di un tessuto sociale, che magari, tra virgolette, incentiva, purtroppo certe pulsioni, certe parafilie di questi soggetti, evidentemente le slatentizza, però ripeto, ecco, vedi, anche il discorso della cinematografia, per esempio c'è un'intervista molto interessante che Ted Bundy rilascia, per esempio, al reverendo Dawson, in cui praticamente lui, poco prima di morire, tende in maniera anche piuttosto puerile, diciamo, addossare la responsabilità dei suoi amicidi a una, diciamo, quella che lui definisce una dipendenza fatale, cioè la dipendenza che lui aveva dall'alcol e da alcune riviste, diciamo, pornografiche che però avevano, diciamo, degli sbocchi violenti, insomma. Sì, però voglio far notare anche una cosa che... Questo, scusa Angelo, poi se ti rompo, però finisco il concetto. Prego, prego. Questa qui è chiaramente una mossa per cercare da parte sua di, come dire, scaricare le proprie responsabilità, tra virgolette, cioè lui cerca, ma probabilmente anche davanti a se stesso, cioè lui cerca una giustificazione ai suoi delitti, cerca di far vedere agli altri che non è stata colpa sua, ma è stata perché lui vedeva, appunto, fin da ragazzino aveva avuto in mano queste riviste, diciamo, con sessualità, associata a sesso, associata a violenza, e quindi cerca di giustificarsi così, ma grazie a Dio non è che tutti quelli a cui capitano in mano queste riviste poi fanno quello che ha fatto Ted Bundy, e per fortuna, insomma, è questo... Io dovrei essere... Basta, eh, Angelo, passiamo agli altri argomenti. No, no, volevo dire una cosa su Ted Bundy, che secondo me è molto interessante. Allora, c'è un... non so se si trova in rete, io l'ho visto su Netflix, dove è una sorta di quattro chiacchiere con Ted Bundy, no? Però io non mi ricordo il nome, non può caso mai lo vado a cercare. In realtà, quando lui confessa tutti gli omicidi a questo giornalista, lui tra l'altro ha chiesto di parlare, chiese di parlare con quel giornalista, e ha chiesto di parlare con quel giornalista e confessa tutti gli omicidi che ha fatto, che sono tanti. In realtà non dice mai io ho fatto, io ho detto, io... Lui parla sempre in terza persona. L'avevo citato, guarda, questa cosa, l'avevo citato nella prima puntata che abbiamo fatto insieme. Steven, il nome è Steven, non so come si pronuncia, lo dico così, Michaud, con il CH, e sì, questo lo fece parlare con questo stratagemma. Gli disse, tu raccontami i delitti, siccome lui aveva una laurea in psicologia, lui gli disse, raccontami questi delitti, mettendoti dal punto di vista dell'assassino, quindi come avrebbe fatto lui per perpetrare questi omicidi, come avrebbe fatto i ragazzi. E quindi lui, con la scusa di formulare ipotesi, poi raccontava in realtà cosa era avvenuto veramente. Insomma, questo almeno... Sì, sì, ma racconta le cose... Eh, sì, vabbè, infatti. Questi poi si raccontano, è anche quello, una volta che vengono presi si raccontano effettivamente. Parallel, era anche un bel ragazzo lui, no? E quindi aveva anche successo con le donne, aveva una capacità. Indubbiamente veniva ritenuto affascinante, sì. Indubbiamente. Anche te viene detto da affascinante, se lo dico. Non credo, Angelo. Questa è la tua opinione, è una tua opinione personale che lascio... No, 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 è l'opinione di alcune persone che hanno... Non è inerente con l'argomento di questa serata. Esatto, esatto. Non è inerente. Non è inerente. Allora, torniamo al discorso iniziale, che è quello appunto dei cosiddetti delitti collaterali. L'altra volta tu avevi... Poi tra l'altro avevamo iniziato questo discorso che poi tu avevi drasticamente tagliato. Adesso lo riprendiamo. Che era quello lì delle... Appunto gli omicidi delle prostitute. E poi passiamo magari agli aspetti quelli sui delitti del delitto di Lucca e dell'altro, la cavallina, giusto Angelo? Ok, sì. Ok. Allora, quindi come dicevo, allora, questi quattro omicidi di prostituta avvengono tra il 1982 e il 1984. E sono la signora Monciatti, 41 anni, che viene uccisa nell'82. Poi la Cuscito, 1983, 37 anni. La Bassi, 55 anni, uccisa nell'84. E infine la Meoni, 46 anni, anno 1984. Allora, vediamo un attimino, facendo un'analisi degli elementi, di capire. Innanzitutto, vedi, purtroppo è già difficile, secondo me molto difficile, stabilire se questi delitti possono essere stati perpetrati dalla stessa persona. Questo già, secondo me, è un dato che è difficile, a livello interpretativo, è molto difficile fare ipotesi in questo senso. Comunque, adesso proviamoci un attimino e vediamo quali sono i punti, diciamo, potrebbero portare a pensare, o non, che sia stata la stessa persona. Allora, innanzitutto noi abbiamo la prima vittima che viene uccisa con un'arma bianca, 17 ferite, al collo e al petto. Viene trovata con i pantaloni abbassati, ma non ci sono segni di violenza. E qui c'è un dato, secondo me, abbastanza interessante, perché non lo riesco a comprendere bene a livello interpretativo. Perché si dice che sparisce un borsello con l'incasso della serata, tuttavia le forze dell'ordine escludono la rapina. Non si sa perché, nel senso che se sparisce un borsello con dei soldi non riesco a capire per quale motivo non abbiano considerato la rapina. Probabilmente c'erano altri oggetti di valore che non sono stati presi, oppure non lo so. Il secondo caso, questa donna viene assassinata con un'arma bianca e abbiamo 15 ferite, di cui 5 al collo e le altre sono da difesa. Qui, in questo caso, anche qui, viene trovata la casa sottosopra con oggetti buttati a terra, ma viene ritrovata una mazzetta da 100.000 lire. Quindi, ovviamente, in questo caso possiamo dire, chiaramente, la rapina è esclusa tra i moventi. Poi qui, nell'84, invece, l'abbassi, che poi tra l'altro viene uccisa a pochissimi metri da dove è stata uccisa un'altra delle prostitute di questa serie, tra virgolette, chiamiamo serie, ma non sappiamo se poi lo sia. In questo caso, però, la vittima viene strangolata. Non ci sono segni di lotta, sembrerebbe che non abbia opposto resistenza. Quindi, a parte i segni sul collo, non ci sono delle evidenze di violenza, insomma. Infine, la meoni. La meoni viene soffocata con una garza avvolgente, con del cotone idrofilo, che viene appunto applicata alla bocca e al naso. Ecco, anche in questo caso, ogni tanto fatti sentire che è così bravo, io capisco, mi fa piacere, mi fa piacere. No, no, ti ho interrotto anche troppo, vorrei farti parlare, insomma. Ah, no, vabbè, ma ogni tanto mi fa piacere anche sentire la tua voce, va bene. Sì, sì, no, ma io ascolto volentissimo, ti ascolto volentissimo, prego. Dicevo, nel caso della meoni, anche qui qualcuno, appunto, rovista nei cassetti, negli armati, viene diversato, qui ci dicono il contenuto di alcune borse, insomma, viene svuotato, vengono svuotati alcuni cassetti. Come dicevo, questa donna viene soffocata. Qui c'è un discorso, ecco, per esempio, il medico legale, in questo caso, riporta la pressochetta totale di assenza di lesioni. E anche qui, vedi, sembrerebbe segni di lotta, comunque non ce ne siano. E infatti dice, c'era uno stato di ebrezza alcolica tale, insomma, non consentiva alla vittima una resistenza, diciamo, importante. Ecco, anche qui viene esclusa la rapina e, vabbè, qui poi, ecco, c'è il famoso discorso che facevi tu l'altra volta, appunto, che non sfugge agli inquirenti, insomma, una ricevuta di una certa ditta, insomma, il cui titolare, insomma, ecco, è un personaggio che tu... Non lo so, la possiamo dire? Sì, certo, lo conosci. Sì, sì, conosci bene, insomma. Sì, conosco bene. Per sentito di senso, lo conosco, non di persona. Sì, no, immagino, immagino, dal punto di vista accademico conosci bene. Esatto, esatto, sì, esatto. Di studio, mettiamola così, ok. Sì, per me, per motivi di studio, lo conosco, ecco. Allora, qui, innanzitutto, ecco, sulla base di questi dati cominciamo un attimino ad analizzare, a vedere un po' quali possono essere gli elementi. Allora, diciamo che, quindi, due donne vengono strangolate e barra soffocate e le altre due vengono uccise con un'arma bianca. Allora, premettendo che questi sono dei metodi purtroppo estremamente comuni, quindi strangolamento e accoltellamento estremamente comuni, e gli omicidi, quindi non delineano nessun, diciamo, particolare, insomma, specifico, sul piano del modus operandi, al tempo stesso va appunto aggiunto che, se tratta, ovviamente, chiaramente le prostitute sono una categoria purtroppo estremamente soggetta a violenze di ogni tipo, quindi è, anche qui, ripeto, resta, secondo me, difficile ipotizzare, cioè, a livello di elementi oggettivi, che a perpetrare questi omicidi sia stata la stessa mano, perché abbiamo due omicidi con arma bianca, due omicidi, invece, per soffocamento. Questo, ovviamente, neanche esclude la possibilità che sia stata la stessa persona, per carità. Quindi, per questo, per quello che riguarda i caratteri generali, cerchiamo invece di vedere adesso se ci sia o meno quelli che possono essere gli elementi che hanno pertinenza con quello che viene chiamato l'omicidio delle coppie e quelli che invece allontanano dalla tesi che a perpetrare questi omicidi possa essere stato l'omicidio delle coppie. Allora, a parte il fatto, come ho detto, che potrebbero essere casi tranquillamente separati, allora, non ci sono, ovviamente, in tutti e quattro i casi, azioni tipiche del cosiddetto last killer, quindi non c'è un'evidenza di sadismo, ma questo va bene, lo abbiamo anche nei delitti del mostro, in cui, appunto, ne abbiamo parlato ampiamente le scorse volte. Il sadismo, comunque, non si evidenzia in maniera macroscopica nei casi del mostro, questo non vuol dire che non ci potesse essere, non fosse ipotizzabile, però per adesso mettiamo da parte questo aspetto. Non ci sono mutilazioni, non ci sono neanche atti, appunto, che possono far pensare a tendenze necrofile, quindi non c'è nessuna evidenza di questo tipo. Adesso sto elencando quelli che potrebbero essere i tratti che allontanano, dall'ipotesi che sia il mostro di Firenze, quello che ha perpetrato questi omicidi. Allora, ecco, in questo caso non c'è una scelta decisa dell'arma, come avviene, appunto, nei casi dell'omicidio delle coppie. Cioè, noi sappiamo che l'omicidio delle coppie utilizza sempre la stessa arma, sempre allo stesso modo, che in questo caso, appunto, è una pistola semi-automata in calibro 22LR. Qui, appunto, non c'è una scelta decisa dell'arma e sua rimozione, come avviene nei casi del mostro, che è tipico, poi, del killer organizzato, quale il mostro è. Quindi abbiamo, appunto, in due casi, sì, c'è un uso di arma bianca che viene utilizzata e poi non viene ritrovata, quindi viene rimossa. Nei secondi, negli ultimi due casi, invece, il terzo e il quarto, abbiamo uno strangolamento, quindi considerando un solo omicida, si avrebbe un passaggio da, diciamo, utilizzo di arma bianca a soffocamento. Ovviamente il soffocamento è un modo, un metodo meno efficace di uccidere la vittima rispetto al coltello, quindi richiede più tempo. Però, in ogni caso, ecco, queste sono due tecniche che portano l'omicida ad un contatto molto diretto con la vittima. Ecco. Il mostro, invece, nell'azione omicidiaria, sembra proprio non ricercare contatto con la vittima durante la stessa. Tende, invece, a cercare di chiudere l'azione rapidamente con l'arma da fuoco e, a mio avviso, solo se costretto dalle circostanze, usa il coltello per portarla a termine, come avviene, appunto, nel caso dell'85 e nel caso del 74. Come ho detto, anche nelle puntate precedenti a volte le classificazioni criminologiche sono troppo schematiche, però vanno sapute un attimino interpretare, bisogna cercare di dargli un'interpretazione. Quindi, se noi consideriamo, come mostro di Firenze, un serial killer organizzato, quindi, come dicevo, scelta dell'arma antecedente al delitto e sua rimozione, questi delitti hanno non solo un modus operandi completamente diverso, ma anche sul piano, diciamo, dell'azione omicidera dello strumento presentano tratti totalmente diversi. Cioè, noi potremmo dire che questo poi l'ho spiegato ampiamente nelle puntate precedenti, io credo che la ritualità perpetrata dall'omicidio delle coppie successivamente ai delitti sia un qualcosa che per lui è gratificante in qualche modo. Quello è uno spazio, credo, per lui molto importante. Quando lui è padrone della scena del crimine dopo che le vittime sono morte, credo sia un momento in cui le sue fantasie prendono il sopravvento e quindi questa ritualità manca completamente in questi delitti. Non ci sono atteggiamenti che indicano quindi un soddisfacimento diciamo sul piano psicopatologico può essere intracciato unicamente nell'azione omicidiana quindi in questo caso dovremmo considerare se si tratta di un unico omicida che il piacere tra virgolette potesse derivare unicamente dall'azione omicidiana quindi proprio dal gesto di uccidere quindi dall'omicidio in sé mancando poi una serie di operazioni che vengono fatte durante o dopo insomma la morte della vittima ora vediamo un attimino quali sono invece i tratti che potrebbero invece accomunare i delitti del mostro a questo specifico a questi quattro delitti allora va beh innanzitutto ovviamente la tempistica 80-84 è evidente sono due anni importanti per quello che riguarda la scia di sangue legata al mostro di Firenze e quindi giustamente molte persone hanno detto se si tratta di un unico soggetto che ha ucciso queste prostitute come anche tu l'altra volta vi hai fatto notare Angelo sarebbe strano che ci potessero essere due serial killer nella stessa città e effettivamente ci sta come ragionamento anche se poi sappiamo che è successo cioè è successo che in varie nella stessa città nello stesso periodo operassero più serial killer quindi statisticamente è anche possibile anche se effettivamente è una cosa abbastanza improbabile questo questo oggettivamente va riconosciuto ecco un tratto che a me ha particolarmente colpito a parte il primo caso che potrebbe essere a scopo di rapina perché manca questo borsello con l'incasso è che tutti gli altri presentano tracce di ricerca c'è scritto di rovistamento ma non di furto quindi è possibile siano stati presi oggetti personali che non erano importanti sul piano del lucro ma erano importanti per l'omicida se li ha presi appunto a scopo felicistico come ovviamente faceva il mostro sulla scena del crime perché questo è un dato oggettivo lo sappiamo e loro vi stava nelle borse cercava oggetti prendeva oggetti e quant'altro questo poi lo fa anche con la borsa della Pettini che poi per motivi evidentemente adesso non starò a parlare di questo comunque poi lascia in mezzo a quel famoso campo di Gran Turco quindi ecco però bisogna anche essere obiettivi nell'altro senso cioè allora la motivazione di questo rovistamento non può essere ricercata unicamente come vista alla ricerca di preziosi o di oggetti tesi a magari al copo feticistico ecco ma è anche possibile che l'assassino gli assassini abbiano cercato di rimuovere delle prove che avrebbero potuto condurre gli inquirenti a individuarli cioè che avrebbero potuto portare gli inquirenti a capire la ragione dell'omicidio o addirittura l'identità dell'omicida quindi anche su questo bisogna tenersi aperti a varie ipotesi secondo me poi per quello che riguarda invece un tratto secondo me ecco importante se torniamo alla figura del cosiddetto serial killer missionario che tra l'altro è devo dire poi sarebbe opportuno farne anche su questo dovremmo allargarci magari su un'altra puntata addirittura ce n'è uno anche in Italia ce n'è stato uno anche in Italia di serial killer missionario che uccideva le prostitute quindi ecco le prostitute sono effettivamente una categoria che chiaramente soggetta non c'è bisogno di spiegare il perché al cosiddetto serial killer tipo missionario quindi credo che questi siano un po' i tratti ecco sulla base di quei pochi elementi pochissimi elementi che io ho personalmente ho cercato di sviluppare insomma un'analisi dunque Angelo ecco io credo personalmente sulla base di questa lettura che ci siano più dati a sfavore che proprio nel senso se qualcuno mi dovesse chiedere tu su che cosa spunteresti io direi più no che sì ci sono più dati secondo me che allontanano dal mostro piuttosto che quindi secondo te la fattispecie non era il mostro in Firenze beh Angelo non me la sento di dire questo nel senso no 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 nel senso allora se dovessi come ti ho detto propendere per una tesi piuttosto che un'altra ti direi più verso il no però non posso escluderlo cioè nel senso vedi ci sono talmente tante lagune purtroppo ma sia sui delitti diciamo su tante cose riguardano proprio in sé il mostro di Firenze ma soprattutto su questi delitti che avendo questi dati questi pochi dati diciamo questi pochi dati mi portano più a considerare l'ipotesi che non siano collegati per le motivazioni che ho insomma spiegato anche abbastanza brevemente però ecco non posso neanche escludere il contrario ecco lo stesso discorso per motivazioni molto diverse vale anche per gli altri due delitti questi famosi delitti che sono in questo caso vedi abbiamo per esempio nel delitto di Lucca a differenza ecco giustamente dei delitti delle prostitute questo qui ha dei tratti caratterizzanti estremamente vicini a quello del a quello del a quelli del mostro perpetrato al mostro di Firenze però ecco giustamente perché poi gli investigatori a un certo punto li escludono sia questo che quello di Barberino adesso vedremo un attimino perché cerchiamo di fare anche qui un'analisi in generale e poi di trarre alcune considerazioni su questo allora dunque il delitto di Lucca avviene è importante la data il 21 di gennaio dell'84 quindi è un delitto che avviene a cavallo tra giocoli e la boschetta ok però è importante anche il mese secondo me ok adesso vediamo un attimino di capire perché chiaramente ci sono questi due giovani ragazzi e anche questi si chiamano Paolo Riggio e Graziella Benedetti che anche loro sono insomma fidanzati stanno insieme da diverso tempo è una coppia giovane volevano sposarsi dunque allora la scena del crimine come si presenta allora anche qui abbiamo le portiere dell'auto sono chiuse il finestrino del guidatore è in frantumi il luogo è effettivamente isolato quindi tutto ricorderebbe diciamo a livello apparente un po' le scene purtroppo già viste in quegli anni ecco dentro l'auto ci sono questi due cadavri questi due ragazzi che sono appunto distesi sui sedili e sono vestiti però in questo caso ecco quindi non sembra che ci fosse almeno apparentemente apparentemente non sembra che ci fosse una diciamo un un tipo di come dire di azione di preliminari sul piano sessuale ora vediamo un attivino quali sono artitratti invece importanti per quello che riguarda poi gli aspetti legati alla criminalistica allora cosa molto importante a sparare è una pistola in calibro 22 long rifle quindi lo stesso tipo di munizionamento cioè munizionamento lo stesso tipo di calibro appunto di munizione che usava appunto la pistola per quella camerata la pistola del mostro di Firenze ora qui sui giornali dicono che è stata una beretta io questo non lo so perché ripeto non ho visto la documentazione quindi non lo so quindi rimaniamo in forza sul fatto che sia stata una beretta o meno però prendiamola per buona questa notizia della beretta però in questo caso vedi per esempio le cartucce esplose non sono l'acqua ma sono cioè non sono Winchester ma sono l'acqua e da quello che dicono la pistola non è quella beretta tra virgolette che significa ok quindi allora vediamo un attimino di capire i tratti caratteristici apparentesimili sono appunto quelli di una coppia giovane ucciso in un luogo isolato con un'arma una semi-automatica in calibro 22 LR però ci sono degli aspetti secondo me che differenziano adesso ci arriveremo per grado poi passando da quelli meno importanti a quelli più importanti aspetti di differenziazione abbastanza netti rispetto a delitti del mostro di Firenze allora il periodo innanzitutto gennaio ora chiaramente non sta scritto da nessuna parte che il mostro di Firenze debba uccidere per forza d'estate questo è chiaro però se insomma sette duplici omicidi a parte quello dell'81 che uccide a ottobre insomma uccide nella stagione estiva dei motivi a mio avviso devono esserci poi su quali essi siano ripeto anche qui abbiamo già fatto delle considerazioni potremmo farne altre ma ci fermiamo qua mi fermo col dire che a mio avviso insomma se colpiva in quel preso specifico aveva delle sue motivazioni quindi un cambio diciamo così radicale quindi uccidere in gennaio questo già presenta un tratto di differenziazione seppur ripeto rimane un tratto secondo me abbastanza non direi assolutamente che è un tratto molto rilevante però andava comunque giustamente sottolineato poi c'è anche un altro aspetto che a me ha colpito giustamente e riguarda appunto la modalità di azione di chi compie questo delitto rispetto al mostro e riguarda appunto la modalità di tiro allora c'è un tratto secondo me interessante che è questo Paolo Rigio viene ucciso da un singolo proiettile che lo colpisce alla gola almeno così questo io ho letto ora un dato oggettivo che noi sappiamo è che il mostro di Firenze scaricava invece un elevato numero di colpi sulla vittima maschile poiché probabilmente ai suoi occhi rappresenta l'ostacolo principale no? alla sua azione e quindi va eliminato per primo quindi in questo caso il fatto che sia stato esploso un colpo solo a me personalmente lascia un po' perplesso insomma ripeto anche qui non sta scritto da nessuna parte che debba sparare più di un colpo sul soggetto maschile per carità non è una regola però credo che anche questo aspetto vada sottolineato ecco qui il grosso problema è rappresentato dalla pistola e dalle cartucce perché quindi come già ho accennato prima si dice non è la stessa beretta allora io ovviamente non so che tipo di esami siano stati svolti suppongo giustamente abbiano fatto degli esami comparativi quindi abbiano comparato i boss ritrovati sulla scena del crimine con quelli relativi a tutte le scene del crimine insomma legate agli omicidi del mostro di Firenze quindi allora a questo punto bisogna farsi una domanda innanzitutto vabbè poi su che tipo di esami possono non possono aver fatto i pari della scientifica poi ci diciamo ci dilungheremo più in là per adesso bisognerebbe chiedersi se è stato il mostro di Firenze perché cambiare arma? allora sappiamo che non si era sbarazzato della beretta della famosa beretta perché poi la riutilizza nell'84 lì alla boschetta quindi l'arma comunque l'aveva ancora se era lui se è stato lui quindi perché attuare cioè se avesse diciamo se fosse stato lui a compiere questo omicidio verrebbe da pensare giustamente che abbia cercato di attuare una sorta di depistaggio quindi di fare che cosa? di far vedere cioè di non farsi attribuire probabilmente quel tipo di omicidio ora c'è chi giustamente ha un tipo di metodo parte da un cittadino X e mi dice ma tu lo sai che il cittadino X ipotesi aveva una casa lì o aveva che ne so un'attività lavorativa io non uso questo metodo cioè io non parto da un cittadino X io parto dal ragionamento in generale quindi è chiaro che se è stato lui e se ha utilizzato un altro tipo di arma aveva sicuramente qualcosa in mente perché se no non avrebbe fatto questo però dobbiamo chiederci cioè aveva due pistole in 22 long rifle ovviamente non denunciate perché abbiamo quella dei delitti del mostro e abbiamo quest'altra chiaramente se doveva fare un tentativo di depistaggio non avrebbe usato un'arma in denuncia mi sembra chiaro in senso cioè così ti vai come si dice invece che a semplificarti ti vai a complicare la situazione perché comunque spari con un'arma che è attribuibile a te quindi avrebbe ottenuto un discorso insomma come dire no avrebbe avrebbe fatto un danno invece che che cercare di e anche qui però dobbiamo farci allora anche un'altra domanda allora se non aveva se non aveva perché poi già lo so quello che poi la gente giustamente mi può chiedere se non aveva un'altra arma in 22 LR potrebbe aver sostituito delle parti per evitare i cosiddetti esami comparativi e qua tantimeno ci delunghiamo anche su questo allora che vuol dire dunque innanzitutto noi sappiamo che la verifica sui bossoli può essere fatta attraverso il confronto lasciato dall'impronte del percussore dell'estrattore e dell'espulsore sui bossoli ovviamente quindi l'esame comparativo che dà poi risultato positivo principalmente viene fatto sui bossoli ma non solo sui bossoli che vuol dire vuol dire che anche la canna i vuoti e i pini di canna lasciano delle microstrie sul proiettile che possono dare un grado di individuazione non solo tra non solo tra due armi di differente modello ma anche tra armi dello stesso modello se tu hai una beretta modello 70 io una beretta modello 70 nel momento in cui il proiettile non è particolarmente deformato si possono identificare dei tratti caratteristici individuali quindi questo che significa significa che il soggetto se dovessimo indicare come responsabile il mostro di Firenze se lui avesse voluto per non farsi attribuire questo delitto utilizzare la stessa arma avrebbe dovuto cambiare non solo estrattore espulsore e percussore ma anche la canna stessa perché lui non poteva sapere quali esami avrebbero fatto io non lo so infatti che esami hanno fatto non so se hanno esaminato solo i boss o se hanno esaminato anche le palle però se hanno escluso evidentemente che l'arma fosse quella è chiaro che evidentemente ci sono stati più elementi che li abbiano portati a fare questo poi ripeto io non posso ovviamente non so che esami sono stati fatti quindi non so se sono stati fatti esami solo sui bossoli o anche sui proiettili quello che io voglio far capire è questo cioè estrattore espulsore e percussore di una beretta 22 LR non è che si trovano nelle confezioni delle merendine nel senso bisogna andare in armeria allora se tu vuoi devistare sinceramente andare in armeria e comprare un estrattore un espulsore un percussore di una calibro di una beretta 22 LR in quel periodo non mi sembra un buon modo insomma per devistare anzi forse un modo per attirare anche qui per attirare l'attenzione nel senso cioè in quel periodo lì quell'arma particolare era attenzionata quindi nella sua testa non so se poteva essere un buon piano andare andare a comprare andare a cercare oggetti parti meccaniche di quel tipo di arma particolare insomma avrebbe cioè nel senso probabilmente avrebbe fatto meglio a sparare con la sua arma e sarebbe stato più tranquillo cioè con l'arma come era come era negli altri delitti e sarebbe stato più tranquillo così ora io sto facendo proprio qui dei voli pindarici a livello ipotetico chiaramente perché poi so che insomma vengono fatte tante domande poteva fare quello poteva fare quell'altro quindi ecco ripeto non so che tipo di esami siano stati fatti sui reperti balistici però insomma queste sono le considerazioni che mi viene da fare quindi anche questo delitto personalmente ripeto seppure ha delle caratteristiche molto molto vicine a quelle poi tra l'altro ecco c'è un altro aspetto Angelo che io avevo dimenticato non è anche questo non è un aspetto da poco allora questo delitto avviene nell'84 dall'81 in poi per quello che è la mia visione della cosa chiaramente ma questo credo sia andato abbastanza oggettivo discutibile ma credo abbastanza oggettivo cioè dall'81 poi il mostro quando può perpetrare le scissioni quindi c'è a differenza dell'83 dove lui ovviamente trova due soggetti di sesso maschile quindi non attua questo tipo di comportamento e a differenza dell'82 dove non può attuare questo tipo di comportamento per altri problemi in questo caso qui poteva poteva ripetere l'azione della mutilazione dei cadaveri invece non lo fa certo chiaramente se la sua intenzione era quella di depistare chiaramente non poteva attuare questo tipo di comportamento però per quello che è l'analisi che io ho fatto per quella che è l'opinione che mi sono fatto di questo omicida non credo che vi avrebbe rinunciato cioè come ho spiegato nelle puntate precedenti secondo me questa non è la mutilazione non è un aspetto secondario direi piuttosto che uno degli elementi centrali quindi rinunciare a questo aspetto per non farsi individuare perché l'unico l'unico motivo cioè se fosse stato il mostro è l'unico motivo che mi viene in mente e insomma mi risulta un po' per me stride un pochettino però ripeto anche in questo caso qui come ho detto per i diritti delle prostitute non abbiamo possiamo fare unicamente delle ipotesi e quindi ci vuole molta prudenza nel fare questo tipo di di valutazione ecco perché potrebbe invece tranquillamente essere lui che per qualche motivo che non sappiamo ha usato un'altra arma come l'abbia reperita cosa abbia fatto questo ovviamente non lo sappiamo ho fatto prima varie ipotesi e chissà per quale motivo chissà per quale motivo diciamo non ha voluto che questo delitto fosse collegato agli altri e quindi ha fatto diciamo ha cercato di depistare di inquinare la cosa ripeto questa è una teoria che non trova in me un gran sostenitore anzi ripeto anche anche su questo sarei più propenso al no che al sì cioè diciamo io personalmente tendo a escludere questo delitto dalla dalla serie di quelli perpetrati dal mostro però ripeto secondo te non è stato lui nei qui anche qui ripeto non posso dare una sarei non sarei onesto intellettualmente se dicessi secondo me assolutamente no mi tengo anche qui un grado di di dubbio anche se ripeto sono più tendente sono più tendente al al no che al sì in questo caso qui dove ecco invece come le prostitute in pratica sì esatto seppur questo delitto effetti presenta chiaramente che Angelo il delitto di Lucca per ragioni proprio lampanti macroscopiche evidentemente è è la fotocopia io infatti ecco c'è un aspetto che volevo sottolineare perché mi è stato detto ma secondo te allora se non è stato lui chi è stato che cosa è successo hai fatto bene a farmi questa domanda perché vedi allora innanzitutto gli inquirenti non escludono l'ipotesi della rapina non è chiaro quanti soldi avessero questi ragazzi c'è chi dice che questo qui aveva ecco 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 voglio questo è un tema caldo che io voglio affrontare anche con te se diciamo se ce lo permette come no si dice il ragazzo avesse 300 mila lire in tasca d'accordo che hai tempi 200 mila lire sì questo era scritto sui giornali questa cosa era scritta su alcuni giornali da questa cosa come si faceva sapere che aveva era stato fatto un pachillist prima che morisse ah ma non lo so ma infatti vedi Angelo io purtroppo vedi è quello il discorso che ti faccio se una legarte ai verbali di sovralluogo testimonianza già anche quelle possono possono condurre in errore quindi figuriamoci articoli di giornale quanto possono essere attendibili in questo caso infatti per quello io dico su queste cose non mi come dire non è esatto hai fatto bene a sollevare questa questione perché perché ovviamente io non escludo un tentativo di rapina nel senso cioè non credo che si possa escludere un tentativo di rapina noi non sappiamo se questo ragazzo avesse questo danaro o meno o se magari anche se non lo avesse c'è stato un qualcuno che ha reputato possibile compiere un duplice omicidio per poche centinaia di migliaia di lire però evidentemente cioè allora qui va fatto anche un altro discorso perché a me è venuta in mente anche questa è veramente una pura ipotesi però viste le analogie con i delitti del mostro io ho anche ipotizzato che avrebbe dovuto trattarsi di un qualcuno che ha commesso questo omicidio su quale sia al momento questo ovviamente lo ignoro pensando cioè compiendolo in questo modo pensando che magari lo potessero attribuire al mostro cioè quindi che fa utilizza un'arma che ha lo stesso munizionamento colpisce in un luogo simile che è simile insomma colpisce in un luogo isolato dove era solito colpire il mostro e quindi magari nella sua mente pensa che gli inquirenti non sono in grado di stabilire se questo è un delitto che è stato perpetrato dal mostro o meno ovviamente questo qui che fa questa cosa non ha la minima idea di cosa in cosa consistono esami comparativi sui reperti balistici ma ci può stare perché nell'83 non è come adesso che apri internet e tutti hanno accesso a tutte le informazioni quindi potrebbe essere un qualcuno che magari ha pensato che questo delitto potesse essere attribuibile al mostro e quindi era poi le motivazioni anche qui bisognerebbe qui si può spaziare veramente a 360 gradi cioè poteva essere qualcosa legato a questioni personali ma è anche possibile che anche questo esso stesso fosse un delitto maniacale ecco si parla spesso di copycat quindi assassini che imitano altri assassini in questo caso non posso escludere neanche il movente psicopatologico cioè non si può escludere che è uno squilibrato in quegli anni come ho detto tante volte i media pompavano molto la figura del mostro di Firenze quindi non si può escludere che un qualche squilibrato leggendo le sue geste l'abbia voluto semplicemente imitare non appunto perpetrando poi però quelle azioni che noi ecco in maniera più specifica conosciamo ripeto e vediamo appunto era molto sì non è vero a parte venne una battuta ma insomma era molto pompato tanto che se inciampavi sul marciapiede dicevano che era stato il mostro di Firenze a spingere sì esatto esatto capito il mostro di Firenze viene accusato di qualsiasi cosa succede a Firenze in quel periodo cioè moriva qualcuno era stato il mostro questo purtroppo ma è anche purtroppo vedi è anche come dire abbastanza normale tra virgolette che avvenga questo insomma si crea poi un clima di paranoia dove poi qualsiasi cosa e qui anche vedi il discorso su Barberino del Mugello allora anche questo è un delitto vedi qui per esempio abbiamo questo omicidio anche qui abbiamo una coppia di giovani tra virgolette che viene assassinata e anche qui l'auto era in un posto insomma relativamente isolato però ecco c'è un c'è un tratto caratteristica in assoluto vabbè l'arma qui in questo caso è una 765 però in questo caso ci poteva anche stare se torniamo nella logica del depistaggio perché perché a differenza del delitto di Lucca che avviene nell'83 questo qui avviene dopo la fine della serie omicidiaria perpetrata al mostro quindi torniamo sempre all'ipotesi che lui avesse voluto dire ok continua a uccidere però non voglio far capire che sono io quindi cambio arma quindi in questo caso il cambio arma poteva essere a livello di ipotesi poteva starci a livello logico però c'è un c'è un elemento che a me su questo lascia perplesso perché è l'unico che mi ha colpito in questo senso ed è che i cadavri vengono trovati c'è questo signore che inviene appunto questi cadavri addirittura dice che lei è già morta lui è ancora in agonia quindi ancora è ancora vivo però ecco i corpi non sono all'interno dell'auto i corpi sono al di fuori dell'auto quindi il fatto che ambe due sì perché qui c'è scritto a mezzo metro di distanza la macchina quindi ci sono lei è già morta lui in agonia c'è anche un cacciavite insanguinato che forse anche qui non si capisce insanguinato ovviamente il sangue delle vittime quindi probabilmente le ferite il sangue insomma delle vittime è fino su questo cacciavite dopo che appunto gli hanno sparato e qui ipotizzano che il cacciavite possa essere stato usato preso per difendersi dall'omicida ma qui dice che le vittime sono a mezzo metro di distanza dall'auto quindi sono uscite quindi per quello io tendo a escludere questo omicidio perché mi dà più l'idea di una sorta di incontro chiarificatorio o risolutivo che invece poi del genere non qualcosa di diverso addirittura un regolamento di conti cioè io ti invito a un appuntamento con la scusa di chiarire un problema risolvere un problema poi quando questi sono scesi dall'auto questo qui ha aperto il fuoco infatti poi è risultato che lei la ragazza aveva dei legami con persone pregiudicate insomma quindi ci sono insomma delle cose poco chiare quindi diciamo ecco forse dimmi Angelo scusa ora tu sai che Vigna pensò subito al mostro poi dopo cambiò direttamente idea però per quanto riguarda il delitto di Luca io voglio voglio dire una cosa cioè si è sempre parlato del profilo psicologico del profilo geografico Barberino Mugello Firenze e lui è un grande conoscitore della zona di Barberino di Firenze e poi va a colpire a Luca cioè non c'è ma infatti guarda Angelo non c'è capito che ti voglio dire sì sì no ma vedi qui purtroppo come già ho detto all'inizio di questa analisi i dati in nostro possesso sono veramente scarsi quindi come dicevo già bisogna essere molto prudenti quando si hanno molti dati in questo caso qui bisogna esserlo ancora di più quindi io personalmente allora non c'è niente che mi porta con matematica certezza ad escludere che l'omicidio delle coppie abbia commesso uno o più di questi delitti di cui abbiamo parlato quindi bisogna rimanere aperti all'ipotesi però al tempo stesso ecco quello che voglio dire non c'è nessun elemento concreto nessun elemento concreto che mi porti a vedere il suo collegamento in uno di essi anzi come dicevo prima se proprio mi devo sbilanciare e lo faccio mal volentieri perché ripeto qui credo che bisogna essere molto prudenti sono più gli indizi che allontanano dal mostro che quelli che avvicinano ecco questo credo che sia sia quello che va insomma rimarcato ecco perché poi ripeto qui siamo in un campo puramente ipotetico io non ho idea cioè nel senso non ho idea del perché lui avrebbe dovuto colpire a Lucca cioè ci poteva stare di dire ok mi allontano dalla mia zona così almeno colpisco in un punto diciamo che mi dà maggior sicurezza so che non mi cercano da quelle parti però al tempo stesso depistare cioè un depistaggio tra virgolette non è semplice da attuare in questo senso cioè ripeto dovremmo considerare che avesse sostituito le parti meccaniche dell'arma per quello che riguarda Lucca o che avesse addirittura un'altra arma completamente diversa in calibro 22 LR che poi fosse o non fosse una beretta questo non lo so perché viene scritto dai giornali ma su questo io non ci metto ovviamente la mano sul fuoco su quello che scrivo tieni giornalisti quindi ho detto e sulle motivazioni che potrebbero averlo portato a voler a voler appunto fare scrutere agli inquirenti questa questo delitto dagli altri lì anche lì potremmo fare due miliardi di ipotesi ma ripeto nella sua testa purtroppo non ci siamo quindi non non si può sapere non so tu chi idea di si è fatto però io credo insomma queste sono credo siano sostanzialmente le cose allora io ti dico la verità sinceramente io credo rispetto alle prostitute che tu sai bene no si di conoscenza a livello accademico che secondo me a livello di prostitute potrebbe essere stato lo stesso maniaco che che studiamo da anni cioè che potrebbe essere stato il mostri potrebbe poi la certezza sono lui ce la potrebbe dare per quanto riguarda i delitti che poi hai di cui hai parlato dopo secondo me quello di Lucca non è ipotizzabile che sia come dire che sia stato lui è più ipotizzabile che sia stato alla cavallina ora ti mi dirai ma loro erano fuori eccetera eccetera la cavallina beh certo tu dici per la zona la zona in se insomma il Mugello ho capito certo certo solo per quello poi magari loro erano fuori magari no no la considerazione territoriale ci sta tutta per carità nel Mugello un luogo importantissimo per questi diritti quindi certo abbiamo sempre parlato come tu anche poi hai il suo legame il suo legame col Mugello secondo me è evidente ecco di quale natura esso sia insomma la cosa è un po' più complessa però sicuramente sì il legame con quella con quella zona c'è prego ma rimane il fatto anche tu tante volte hai detto non è una cosa che nascondiamo tu hai sempre detto che secondo te potrebbe essere anche qualcuno che ha come appoggio ha un appoggio una base nel Mugello d'accordo? sì sì è una possibilità potrebbe vedi il legame col Mugello come ho spiegato adesso non mi metto a ripetere tutto quello che ho detto nella puntata precedente il legame col Mugello secondo me è evidente forse è meno evidente rispetto a quello con la zona di Scandici però ecco è evidente quindi anche qui dovremmo considerare una persona che ha una buona buonissima conoscenza dei luoghi potrebbe avere una abitazione potrebbe avere un'attività lavorativa potrebbe avere dei parenti ti interrompo quindi va a cozzare sul delitto di Lucca cioè conosce bene i luoghi però va fuori cita va fuori porta a fare un omicidio non so allora Angelo diciamo che su questo bisogna anche su questo io non non tendo a essere bianco o nero cioè che vuol dire vuol dire che lui colpisce anche i luoghi noi abbiamo parlato in passato come ecco tu giustamente hai detto abbiamo parlato di Vicchio del Mugello abbiamo parlato di Scandici che secondo me sono zone che conosce benissimo perché le frequenta proprio abitualmente indipendentemente poi dalla ricerca delle vittime però ha commesso degli omicidi anche in luoghi come Calenzano in luoghi come Baccaiano quindi questo siamo sempre nella piana fiorentina hai ragione e infatti e infatti però anche qui dovremmo farci questo vedi questi problemi pongono poi altre domande perché dovremmo chiederci sempre il suo discorso lui che tipo di modalità utilizzava per selezionare le vittime io per quello che poi riguarda vedi io credo che ci siano allora come tu sai io anche lì tendo a essere molto prudente quando valuto diciamo le testimonianze perché spesso il testimone è un falso amico però in questo caso qui per quello che riguarda questo aspetto io credo che le testimonianze che abbiamo in merito al fatto che questa pure è qualcosa che troviamo spesso negli atti che queste ragazze quindi le vittime femminili fossero seguite fossero state attenzionate precedentemente al delitto francamente sono testimonianze che in me trovano un sostenitore abbiamo moltissimi casi abbiamo il caso della Pettini abbiamo la testimonianza su quel ragazzo adesso non ricordo il nome che accompagnava la Runtini a casa abbiamo testimonianze riportate dall'avvocato Filastò circa tutto il fatto che la Gambi fosse seguita insomma ne abbiamo tante io credo personalmente l'ho detto anche nelle scorse puntate che lui avesse una previa conoscenza delle vittime che poi poteva essere anche unilaterale quindi nel senso c'è queste vittime potranno essere stata attenzione senza essersene accorte anzi in realtà se ne erano poi accorte alcune ma comunque non aveva lui non cercava un contatto diretto probabilmente si limitava appunto a raccogliere informazioni quindi ripeto tornando al discorso nostro perché andare a Lucca e ripeto questo rimare se fosse lui sarebbe un bel mistero probabilmente aveva se se è stato lui allontanandosi così tanto probabilmente o aveva qualcosa in quella zona o aveva un motivo particolare per spostarsi in quella zona la motivazione come ho detto potrebbe anche essere ricercata nel fatto di dire ok mi sposto da quelle che sono le zone attenzione dagli inquirenti perché come dici tu la valle fiorentina nell'83 effettivamente era insomma la piana fiorentina sì scusa la piana fiorentina era in quel periodo veramente come dire no era insomma era attenzionata quindi per lui cioè almeno lui bisogna sempre ragionare come lui lui non poteva sapere gli inquirenti come si muovevano fino in fondo quindi lui magari poteva anche ipotizzare insomma nell'83 mi cercano da queste parti quindi io vado da tutta altra parte e magari colpisco sì ho capito cosa vuoi dire cioè si sposta in ragionazione verso un'altra direzione diciamo per creare esatto è una mossa strategica che potrebbe ma ripeto qui vedi Angelo stiamo sempre in campo io non sto dicendo che è andata così sto dicendo che è una delle tante possibilità ma no 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 certo ma io come come dici tu giustamente questo potrebbe una possibilità io però voglio fare a questo punto anche l'avvocato del diavolo cioè voglio voglio dirti secondo me allora hai presente che tutte le volte che qualcuno era in galera lui uccideva qualcuno è successo è successo Francesco Vinci è successo per per Spalletti è successo per Giovanni Vinci per per il Fornaio insomma non ricordo come si chiama eccetera eccetera allora secondo te li ha uccisi perché ha ucciso le coppie in quel determinato momento perché voleva far uscire di galera chi era in galera secondo me no secondo me io premetto l'avevo già esatto specificato nell'altra puntata quando ho parlato di Spalletti cioè secondo me lui non uccide mai per far uscire qualcuno di galera tra virgolette per discolpare qualcuno questi omicidi hanno secondo me come unico scopo quello di soddisfare le sue pulsioni quindi queste strategie a lui secondo me non le interessavano proprio quindi secondo me lui le uccideva semplicemente per dire questo ovviamente naturalmente è una mia ipotesi è un mio pensiero che può essere può essere anche contrastato cioè per dire ehi il mostro sono io e sono fuori e continuo a cidere capito? ah sì sì questo come a rivendicare aspetta come a rivendicare il proprio operato però se lui poi si sposta dalla parte di Lucca non può più rivendicare il suo operato cioè devo uccidere annonimamente perché è questo l'hai fatto assolutamente sì adesso allora guarda sì 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 io per esempio sono come tu sei un sostenitore il fatto che lui avesse la tendenza a voler rivendicare i propri omicidi qui torniamo al discorso sul biglietto dell'82 questo discorso già l'avevo affrontato prima quindi sì mi trovi d'accordo su questo fatto e tu dici giustamente se lui attua tutta una serie di comportamenti per far escludere il delitto di Lucca dalla serie sarebbe come un volere rinnegare tra virgolette il delitto esatto non è che non sia proprio il tipo che voglia fare una cosa del genere sì sì esatto secondo me no questa è la mia opinione ovviamente ma come secondo me in un'occasione del genere come il delitto di Lucca avrebbe approfittato per commettere quelle tristi azioni che poi compiva dopo l'azione omicidiaria perché lì a differenza dell'82 e dell'83 ne aveva la possibilità quindi rinunciarci secondo me non era una cosa da poco per lui anzi tutt'altro io come ho sentito più volte ritengo che le decisioni non fossero assolutamente un aspetto secondario della sua azione quindi rinunciarci in maniera obbligata per dire ok non faccio capire che questo delitto è il mio insomma doveva avere veramente a parte ripeto io non credo che lui in quel momento avesse e su questo poi rispondo alla domanda che mi avevi fatto prima perché tu mi avevi fatto una domanda sull'aspetto della com'era il controllo diciamo la gestione dello stress durante prima durante e durante allora se chiaramente io credo che questo va bene anche su questo mi andrebbe fatto un approfondimento perché ho scritto molto su questo aspetto però cercherò di fare una cosa un discorso molto sintetico allora se noi consideriamo che lui agisse in uno stato di lucidità completa lucidità chiaramente dobbiamo considerare una fase tra virgolette adrenalinica che è quella appunto dell'avvicinamento alle vittime e quella appunto dell'azione omicidiaria quindi in quei momenti lì lui era estremamente operativo estremamente reattivo quindi era in uno stato di estrema lucidità e consapevolezza e quindi probabilmente in quella fase lì gestiva chiaramente aveva un'ottima gestione dello stress ma questo è caratteristico dei serial killer perché sennò non farebbero poi quello che fanno secondo me o almeno dei serial killer organizzati nella seconda fase invece il discorso secondo me cambia nel senso che una volta che lui è padrone della scena a quel punto subentra un altro aspetto cioè a quel punto credo che l'opinione che l'opinione che ho sviluppato io sulla base dei dati che ho analizzato è che in quel momento invece le sue fantasie prendessero il sopravvento e che quindi passasse in una fase meno lucida quindi dove diciamo le pulsioni avevano tra virgolette la prevalenza sull'autoconservazione quindi probabilmente in quella fase lì lo stress era qualcosa che proprio non lo riguardava se consideriamo questa ipotesi ok però sicuramente sì cioè la fase in cui lui si si avvicina alle vittime la fase in cui lui commette l'assione omicidiaria quella è una fase come ho detto che lui secondo me commette in uno stato di piena lucidità e quindi si gestisce sicuramente bene lo stress ha un'ottima gestione dello stress ma questo è indicato anche da da reazioni che lui ha ai cosiddetti imprevisti cioè il mostro di Firenze è effettivamente un serial killer anche fortunato perché in numerosi casi diciamo la fortuna purtroppo gioca a suo favore però va riconosciuto che è anche un qualcuno che sa sa gestire molto bene gli imprevisti cioè non si lascia sorprendere se qualcosa non va nel modo in cui lui ha previsto lui comunque ha una reazione subitanea una reazione aggressiva molto è estremamente reattivo estremamente reattivo questo lo dimostra a Baccaiano lo dimostra nell'85 e anche in altri casi cioè lui non lui deve deve portare a termine la sua azione e questo prego prego Angelo dimmi secondo me doveva essere necessariamente una persona molto informa non il classico panzone no Angelo non credo io esatto io personalmente mi sono fatto un'idea della sua struttura fisica sicuramente sì non era almeno allora pure qui bisogna sempre considerare un arco di 17 anni ricordiamoci sempre che questa persona inizia secondo me a uccidere nel 68 e finisce nell'85 quindi sono 17 anni non sappiamo ovviamente a che età posto aver cominciato si suppone che fosse già adulta tra virgolette poteva essere giovane ma adulto e quindi dobbiamo considerare che il fisico cambia ovviamente in un arco di anni così lungo 17 anni non sono pochi però sì sostanzialmente sono d'accordo con te non era non era una persona che aveva una fisicità non era assolutamente un qualcuno impedito fisicamente anzi tutt'altro io sono molto propenso a credere il contrario ho dei dati insomma molto in forma come dire che secondo me praticava anche degli sport sì ma oddio questo per carità guarda non ho mai francamente non avevo mai non mi sono mai chiesto se praticasse sport o meno però credo che sicuramente era qualcuno come ho detto che a cui il lavoro fisico non lo spaventava per niente ecco io mi sono fatto questa idea era qualcuno che non aveva nessun problema diciamo a fare del lavoro fisico anche pesante anche pesante ma diciamo non si può assolutamente escludere la possibilità che fuori guarda sicuramente era una persona che aveva come ho detto nelle scorse puntate contatto diretto insomma con la vita la vita rurale era qualcuno che era abituato a stare in campagna non era sicuramente uno di città tra virgolette poi sì se questo magari che ne so ho detto durante la settimana lavorava in ufficio però non credo che fosse uno che lavorasse in ufficio tra l'altro però vabbè però insomma per capirci insomma era qualcuno che in qualche modo aveva un contatto diretto quindi sicuramente poteva essere anche qualcuno che svolgeva io ho detto cioè il modo in cui lui vedi questo lo ripeto il modo in cui lui usava il coltello secondo me è molto più descrittivo del soggetto rispetto a come lui utilizzasse la pistola il modo in cui lui usa l'arma bianca già dalla prima escissione denota una familiarità con l'utilizzo del tagliente su essuti organici l'abilità tra virgolette che viene descritta anche dai medici legali rimarchevole quindi questo implica che lui dovesse avere già un'esperienza pergresse siccome come ho detto non ci sono stati casi precedenti di questo tipo in Italia ma neanche da altre parti che sono stati registrati quindi quella azione che lui compie nell'81 sulla denuncia purtroppo quindi secondo me era già stata provata tra virgolette su animali cioè lui aveva un'esperienza pergresse fatta su animali e quindi questo comporterebbe cosa il cacciatore che io lo metto diciamo l'ipotesi che fosse uno che praticasse l'arte venatoria sulla pratica venatoria l'ho messa al primo posto per i motivi che ho spiegato nelle volte precedenti però ripeto non si può escludere che fosse un allevatore un contadino non è detto che fosse un cacciatore quindi sì poteva anche essere un qualcuno che aveva un'attività in campagna in azienda agricola non si può escludere nessuno qui ripeto stiamo sempre nel campo ipotetico quindi ripeto bisogna sì ripeto credo credo che fosse una persona abituata a stare all'aperto a stare in campagna un qualcuno che aveva abitudini a livello al lavoro fisico alla manualità certo sì 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 qualcosa nei suoi diverse cose nei suoi comportamenti portano a pensare che l'essere non va a cozzare assolutamente con il personaggio che ho sempre pensato quindi in gran forma praticante di sport il contadino tu sai che tu sai che io come ho detto prima non parto da nessun soggetto x io mi limito a fare certo poi vedi si può essere più o meno d'accordo con le mie idee nel senso per carità io spiego il mio metodo nel senso quando trago delle conclusioni faccio delle ipotesi spiego il metodo attraverso cui sono arrivato a formulare queste ipotesi quali sono i dati che mi hanno portato a formulare certe ipotesi non li ho spiegati tutti ovviamente perché mi ho spiegati solo una piccola parte perfetto senti quanto abbiamo fatto più o meno stasera allora siamo un'ora e mezza un'ora e 27 quindi se non hai niente altro a dire c'è il senso no no io penso per stasera avrei concluso non so se tu hai qualche altra domanda ma non credo penso che ci siamo detti tutti hai risposto tranquillamente alla domanda di gestione dello stress che a me interessava abbiamo chiarito anche il fatto del profilo geografico per quale motivo dovrebbe essere andato dalle parti di Luca a uccidere poi ognuno di noi ha detto la propria opinione quindi secondo me siamo a posto io rinnovo sempre l'invito ai nostri ascoltatori che aumentano di giorno in giorno e vi ringrazio e soprattutto per sostenere il canale anche se ultimamente siete diventati un po' di avete la viperetta in tasca ma io vi voglio vedere lo stesso tanto non l'informazione la facciamo a prescindere anche io ringrazio tutti quelli che hanno insomma dimostrato interesse insomma tutto l'interessamento per le precedenti puntate mi hanno fatto un sacco di domande interessanti io rispondo sempre molto volentieri sono apertissimo come tu sa la discussione al confronto ovviamente purché sia costruttivo e anche per chi ha anche per chi ha idee completamente opposte alle mie insomma io credo che il confronto porti sempre stimolo stimoli interessanti nel senso che poi vedi anche confrontarsi con qualcuno che ha idee differenti dalla propria può portare a fare degli approfondimenti quindi è sempre secondo me se è portato avanti nel modo giusto è sempre sempre costruttivo certo in maniera assoluta io sono estremamente convinto che che diciamo il confronto quando il confronto è fatto in modo sano e corretto possa portare sempre comunque ha delle anche delle nuove conclusioni dimmi esatto Angelo io credo vedi io rispetto chiunque come dire metta la faccia sulla propria idea cioè già che già che qualcuno si espone insomma ci metta la faccia sulle proprie idee per me già è qualcosa che secondo me merita rispetto perché quando tu ti esponi sei sempre sottoposto a critiche a volte possono essere costruttive a volte invece distruttive però sei un qualcuno che comunque si è esposto se tu non ti esponi ovviamente non sei sottoposto a critica questo è chiaro però ecco ritengo che quando si critica si debba sempre formulare come si dice un'idea e non limitarsi a criticare gli altri senza come dire no? sì senza dare le parole senza esprimere esprimere un proprio esatto un proprio parere e che poi è costruttivo proprio per la discussione cioè nel senso è costruttivo proprio per lo studio queste sono per la ricerca no? è importante ognuno metterà mette una parte no? esatto che poi possa essere giusto o meno ma insomma uno ce la mente poi esattamente si valuta strada facendo no? come diceva Baglioni va bene benissimo Angelo noi come Baglioni ci leviamo va bene puntini puntini benissimo io ringrazio Marco Corigliano grazie Angelo grazie a tutti il gradito approfondimento ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato ringrazio tutte quelle persone che ci ascolteranno e allora dovete sapere che io avevo in realtà progettato di fare una di fare una puntata una super puntata con sia con Corigliano che con Enrico Manieri stasera che non è il giorno in cui state ascoltando ma oggi è il 18 di marzo e voi l'ascolterete se tutto va bene ora ve lo dico subito quando state ascoltando questa sarà il 24 di marzo e quindi ho chiesto a Enrico Manieri se voleva fare una puntata Corigliano versus ma versus no ma non esiste no 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 stavo spiegando premesso che Enrico abbiamo un ottimo rapporto ma nel senso io come già tu sai ho spiegato Enrico abbiamo siamo molto in linea su alcune cose quindi no no ma il mio versus era più per spettacolizzare la cosa ah ecco appunto no assolutamente so che siete in ottimo rapporti lo sono anche con lui e voglio rimanere in ottimo rapporto sia con te che con lui ma ci mancherebbe insomma certo certo no ma ripeto ma più che altro sarebbe vedi strutturare una puntata con Enrico sarebbe difficile ma per altri motivi non perché lui vabbè ha fatto uno studio molto approfondito su scoperi che tra l'altro io ho avuto modo di apprezzare tra l'altro su alcune cose che siamo confrontati come già ho detto però ecco sarebbe diciamo vedi poi bisognerebbe ma guarda se lui vediamo insomma vediamo come si dice strada facendo eh Angelo che dici come diceva Bagione beh esatto ho rincitato Bagione sì no no ma lui ha detto in questo periodo è molto occupato per questioni familiari insomma nulla di che è impegnato al lavoro famiglia quindi però ha promesso che sarà con noi insieme a Marco quindi è solo una questione di tempo allora io vi saluto con la tromba e con il muto non so venerdì chi ci sarà perché ancora non ho preso le informazioni credo Scufio Menca e Trilibet state fermo te con quel microfono perché ci sente tutto e aspetta la seconda quindi io vi saluto con la tromba e con il muto e vi aspetto venerdì sera ripeto non so con chi ma sicuramente qualcuno ci sarà un grande abbraccio e grazie Marco per essere sempre grazie Angelo buona serata a tutti rimani là che ti saluto in privato che è detta così è bruttissima buonanotte a tutti buonanotte te 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 te, 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 te